Prospettiva popolare, Italia viva a braccetto alle regionali in campagna nel sostegno a De Luca e molto più di una indiscrezione, quella che circola, le voci di dentro confermano contatti ben avviati e in corso direttamente tra Ciriaco De Mita e Matteo Renzi. Ripensando all'aspro duello sul referendum costituzionale del 2016 apparirebbe paradossale l'intesa. Due ragioni di fondo invece potrebbero spiegare la convergenza. La prima, anche se con tempi ragioni e analisi molto diverse, hanno entrambi avversato o avversano ancora il PD. La seconda, di natura matematica, è legata alla richiesta del governatore di dimagrire le liste degli alleati e si dice anche nelle difficoltà a riempirle. C'è grande incertezza su se e come si chiuderà l'accordo. Entrambi i candidati irpini indicati come capilista, Enzo Alaia da un lato e Pino Rosato dall'altro, hanno già fatto stampare manifesti e vele con il simbolo dei rispettivi partiti, Italia Viva e Popolari. La questione principale dell'accordo in effetti sarebbe tutta identitaria e difficilmente i protagonisti vi rinunceranno a quei simboli. In caso di Fumata Bianca, Ettore Rosato e Ciriaco De Mita potrebbero spiegare la prossima settimana i presupposti dell'intesa in un convegno a Napoli. Diversamente ognuno per la propria strada, con i popolari dati più indietro. nell'allestimento delle liste e chiamati a confermare gli elenchi in almeno tre province su cinque in Campania.